Ciao ragazzi, ed è che andiamo? Oggi siamo a Riale! Che dire, Riale fa vedere uno spettacolo mozzafiato. Abbiamo le montagne un pochettino innevate, la diga maestosa, il passaggio qua sulla destra, e soprattutto che vista. Ragazzi dovete proprio venirci. Da che andiamo, da che andiamo, e c'è anche la neve. Da che andiamo? Musica Ragazzi, questo qua è un posto da visitare, guardate, ve lo consiglio davvero. Siamo arrivati alla fine del video e vi ringrazio sempre di avermi seguito e ovviamente vi chiedo di spolliciare un pochettino così mi aiutate a fare crescere il canale. E al prossimo video e mi raccomando se venite lasciate giù qualche commento, ok? Ciao ragazzi, ciao ciao ciao!